Pianto disperato di Fiorello in diretta tv. Ecco cosa è successo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Fiorello si è lasciato andare a una commozione inaspettata, e il motivo è legato a un episodio misterioso. Seduti in un bar a Roma, Fiorello e l'inseparabile amico Fabrizio Biggio discutono animatamente di fatti passati e futuri, regalando momenti di puro intrattenimento durante la preparazione dello show Fior. Il tutto è stato immortalato da Mauro Casciari, che ha condiviso il video su X mentre si organizzava la nuova puntata di Viva Rai 2. Ma ciò che ha reso il momento davvero interessante è stata l'inattesa colonna sonora. Improvvisamente, nelle stanze risuona la voce di Pino Daniele. La reazione di Fiorello è stata un'emozione pura. Testa bassa, mani tra i capelli, occhi chiusi, e un improvviso karaoke che ha emozionato tutti. In alcuni momenti, la voce di Fiorello sembra tremare, testimoniando l'intensità del sentimento. I fan hanno apprezzato la condivisione del momento, lasciando entusiasti commenti. Quando la musica prende, non se ne esce più, scrive qualcuno, sottolineando l'empatia con l'emozione di Fiorello. Ma cosa sarà successo realmente a Fiorello? Sottolineando l'emozione di Fiorello.